amici bentornati sul canale 2000 giri elaborazioni autosportive oggi facciamo un'altra puntata di quelle legate al mondo orologi e motori orologi e motori gioie e dolori abbiamo già fatto una una puntata precedente dove praticamente cercherò di associare a un determinato orologio sono un appassionato di orologi e cercherò di associare un determinato orologio con determinate caratteristiche a un certo tipo di vettura andando a pescare dall'archivio elaborazioni che abbiamo fatto che troverete sul sito con oltre 3600 schede vettura quindi oggi partirei subito con il primo orologio che questo che è un tagoyer gmt carriera twin time quindi è un gmt che oltre all'ora corrente fornisce anche con la quarta lancetta quello che è l'ora che possiamo impostare su qualunque fuso orario questo è un orologio particolare un orologio del 2005 con un calibro di manufattura tagoyer lo chiamano calibro 7 un calibro di manufattura il quadrante un 39 mm e come marchio io apprezzo molto il marchio tagoyer perché è legato direttamente al mondo delle corse quindi tagoyer fa venire in mente immediatamente quello che è stato diciamo il testimonial per eccellenza che steam queen nel film la 24 ore di leman quindi un orologio assolutamente storico legato al mondo delle corse e per questo motivo io lo collegherei con questa stupenda porsche 997 gt3 rs quindi una vettura che abbiamo avuto il piacere di avere in officina siamo un paio di anni fa quindi una vettura sostanzialmente da corsa con la targa diciamo così è una vettura aspirata un 4.000 di cilindrata con 500 cavalli veramente una delle vetture più straordinarie mai avuti in officina quindi la similitudine con un orologio che è ispirato al mondo delle corse con questa vettura direi che ci calza a pennello poi passerei a questo altro questo è un cronografo è un tudor oyster date del 95 la referenza è una 79 260 ed è un orologio diciamo di questo modello è un modello si chiama transizionale perché praticamente separa quello che erano i cronografi primi cronografi della tudor soprannominati big blocks perché avevano uno spessore della cassa molto importante rispetto a quelli successivi a questo modello per cui stiamo parlando di dal 2000 2001 in avanti dove erano diciamo marchiati esattamente cioè il modello esteticamente era uguale però si si sono scollegati dal dal link che avevano con la rolex nel senso che la tudor è sempre stata diciamo una 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 casa direttamente correlata con la rolex e questi questi modelli qua appunto transizionali sia sulla cassa o si vede ben chiaramente sia sulla cassa sotto che sul su quello che la clasp sotto sono ancora marchiati rolex nonostante appunto sulla cassa ci sia il marchio tudor per cui un orologio particolare a me piacciono molto i cronografi questo ha un movimento va giù 77 50 e la caratteristica di questo orologio è il fatto che nasceva bianco e adesso si è diciamo il quadrante è virato con un colore un pochino più scuro tendente al al marroncino diciamo così e queste sono delle caratteristiche veramente molto molto apprezzata dei collezionisti perché è un qualche cosa che non si può riprodurre in serie quindi un qualche cosa che diciamo è dovuto al diciamo alla patina del come era stato diciamo costruito il quadrante e col tempo il quadrante si ossida e assume una colorazione appunto caratteristica che ha solo questo tipo di orologio per cui diventa un po come delle diciamo dei pezzi unici chiamiamo così ecco perché diciamo vengono così apprezzati da dei collezionisti questo è un orologio sicuramente classico direi uno sportivo classico ed è un orologio appunto storico perché con le caratteristiche che vi ho espresso prima è un orologio appunto che segna un'epoca molto particolare prima che il marchio cambiasse cioè cambiasse connotazione diventasse tudor a tutti gli effetti qui siamo ancora in una fase di transizione dove tudor è direttamente correlata con il marchio rolex per questa per questo tipo di orologio ho pensato di abbinare questa porsche 911 il 3.2 cabrio che abbiamo anche in questo caso avuto il piacere di avere in officina quindi un grande classico un marchio assolutamente di qualità ed è una macchina che è una vettura che avrà sempre il suo valore così come questo orologio qua che avrà sempre il suo valore sarà sempre apprezzata da da coloro che appunto dai collezionisti o dagli amanti delle macchine storiche ok io a questo punto passerei a un altro cronografo in questo caso è un ivc flieger cronografo del 2005 anche in questo caso il movimento va giù 77 50 e io sono particolarmente affezionato a questo orologio perché lo trovo proprio la sintesi perfetta è veramente un orologio solido perfetto da un punto di vista anche di proporzioni con il col quadrante un 39 mm di di diametro una cassa non particolarmente spessa diciamo che diciamo spessa perché chiaramente tutti gli orologi che montano il calibro 77 50 ovviamente non possono scendere sotto una determinata altezza però lo trovo veramente un orologio eccezionale dalla portabilità perfetta può essere appunto sicuramente un orologio solido come dico io sportivo e soprattutto storico perché questo tipo di di cronografo si ispira appunto al mondo dell'aeronautica perché appunto era stato costruito e concepito negli anni 40 per appunto tutti che tutti i piloti che pilotavano appunto aeree da guerra a questo e quindi un grande classico quindi come grande classico io lo andrei ad abbinare a un grande classico del canto delle automobili che questa la mini intesa come come grande classico in questo caso facciamo riferimento a questa mini cooper s john cooper works sulla quale abbiamo veramente svolto non tanti mesi fa l'abbiamo consegnata mi sembra alla fine dell'anno scorso sulla quale abbiamo svolto tutta una serie di abbellimento di migliorie per rendere veramente la macchina come si suol dire tailor made per il cliente ci ha fatto fare veramente tutta una serie di migliori da un punto di vista estetico meccanico motore asset impianto frenante gli abbiamo consegnato una macchina veramente unica nel suo genere ci ha fatto fare anche delle modifiche a livello di carrozzeria verniciando alcune parti comunque troverete la scheda trovate la scheda con tutte le modifiche specifiche all'interno dell'archivio elaborazione io questo punto passerei all'ultimo orologio della serie di quelli che ho portato oggi questo orologio molto particolare un orologio militare della seconda guerra mondiale è una storia tutta particolare allora questo va beh un orologio che ho acquistato da un collezionista non tanti mesi fa alla fine dell'anno scorso la metà dell'anno scorso e arriva da cassino quindi è un orologio che appunto ho avuto modo il piacere di conoscere il proprietario che mi ha raccontato la storia di questo orologio quindi questo è un orologio militare tedesco eh la particolarità è il fondello dove si può vedere chiaramente il le lettere di assegnazione di h deutsche che sono esercito tedesco e qui sotto in piccolo non so se si vede c'è proprio la con una punta il diciamo è stato eh inciso il la sigla del di quello che era il il proprietario di allora la storia particolare di questo orologio è quella di ehm di provenire appunto dal dal fronte di cassino quindi eh il nonno di questa persona qua eh l'ha ricevuto in regalo da un da un militare tedesco un un ufficiale ehm paracadutista della prima divisione paracadutisti i famosi falchimièger i cosiddetti diavoli verdi che hanno combattuto sul fronte di cassino ehm da maggio giugno maggio giugno del 1943 e questo eh ufficiale paracadutista ehm se se eh chiunque ha ha eh diciamo modo di di fare un'analisi storica sa che che cosa quali battaglie sono state combattute ehm per ehm mi sembra quattro cinque uova ha barattato questo suo orologio con appunto quattro cinque uova perché durante quei mesi eh veramente le condizioni erano terribili non si riusciva a trovare da mangiare quindi il nonno di questa di questa persona ha barattato le uova con questo ufficiale diciamo eh ha scambiato le uova con il con il suo orologio in questo orologio poi è stato passato al figlio e poi il figlio ha deciso di venderlo e per via traversa sono venuto a conoscenza di questa cosa siccome sono appassionato non solo di orologi ma anche di storia della seconda guerra mondiale ho trovato la simitudine perfetta e assolutamente eh l'ho voluto acquistare a tutti i costi non ha un valore intrinseco eccezionale non è un orologio di di marca o di però ha una storia tutta sua che considero veramente unica nel suo genere ovviamente è un pezzo molto particolare per tutti coloro che sono interessati a quel periodo storico indipendentemente dal discorso degli orologi quindi mi faceva piacere ehm condividerlo con voi a questo punto il link con diciamo una macchina coerente può essere questa Jeep Willis del 1942 che abbiamo avuto il piacere di avere in officina sulla quale anni fa tanti anni fa questa è una macchina che abbiamo avuto in officina più di dieci dodici anni fa abbiamo fatto gli interventi di restauro degli interni abbiamo rifatto la la stoffa dei sedili abbiamo fatto due o tre interventi interni questa macchina è veramente eccezionale c'era già perfetta c'era solo un problema di di tessuti però devo dire che la similitudine tra questo tipo di orologio e questo tipo di macchina è direi perfetta io direi che anche per questa puntata è tutto ci ehm ci vedremo appunto in un'altra puntata dedicata al mondo orologi e motori con altri tre quattro pezzi interessanti che vedrò di di portarvi la prossima volta per il momento è tutto qualunque tipo di commento eh lo aspetto volentieri e cercherò di darvi le risposte più saustive possibili per qualunque informazione sapete da trovarmi un saluto alla prossima